eccoci a noi e anche se è tardissimo e vi auguro una buona vigilia ovviamente il video l'interattivo validità dal momento in cui lo vedete quindi il fattore temporale è fino a se stesso solo per portare da voi il mio pensiero andiamo a fare questa canalizzazione richiesta da voi l'interrogativo è riuscirò ad avere pace e serenità finalmente a ritrovare la giusta dimensione a vivere in maniera degna magari anche a trovare un amore è giunto finalmente il momento di ricominciare ma in modo positivo costruttivo allora andiamo a vedere selezioniamo le nostre nuove carte e facciamo questa canalizzazione utilizziamo le carte di osho eccoci qui bene mi piace il centrino fatto da mia madre molto molto tempo fa molto carino è quando si faceva l'uncinetto che ovviamente non so fare io intesso storie racconti per voi punti di vista a partire dai quali possiamo riflettere riuscirò finalmente a trovare la serenità innanzitutto devi fidarti di te e dei tuoi sentimenti e la prima persona che devi auspicare al tuo fianco non è qualcun altro ma sei te stessa seguiti conduciti prenditi per mano e quando sei stanca attenditi non donare ad altri la facoltà di decidere per te non abdicare a te perché se tu proietti sull'altro il metro di giudizio della tua persona e se tu vuoi necessariamente perché poi se ti concedi totalmente ad un'altra persona gli dai in mano dei redini del tuo destino ecco se poi devi necessariamente far seguire il tuo passo al suo e armonizzare il tuo ritmo a quello di un'altra persona o far dipendere la tua focalizzazione interiore e centratura sul comportamento e il malessere di un altro individuo hai perso totalmente tutta la libertà e sei schiavo sei schiavo degli sbalzi di umore di un'altra persona che in un attimo ti può sollevare e un attimo dopo ti può sotterrare la prima forma di indipendenza e il primo passo verso la libertà è una vita degna di essere chiamata tale dove la tua dignità al primo posto è la consapevolezza delle proprie risorse, dei propri limiti e anche delle proprie paure perché essere consapevoli non vuol dire non avere più intorno fantasmi o non avere più scheletri nell'armadio essere consapevoli vuol dire semplicemente accettare la responsabilità di dover rispondere alle proprie azioni e prendere a quattro mani, anzi a due mani proprio perché siamo indipendenti il coraggio di avventurarci verso il futuro anche da sole, da soli non aver paura di essere sole e soli perché vuol dire essere innanzitutto indipendenti arriverà questa serenità nel momento in cui e nel momento in cui lascerà cadere tutte quelle giustificazioni, quelle chiacchiere guarda quante labbra, quelle scuse che a volte ci si ripete ciascun per sé e ciascuno in base alla propria esperienza per addolcire un pochino la pillola nel momento stesso in cui si provano dolori molto profondi perché ad essere sinceri con se stessi noi sappiamo che spesso quelle croci le abbiamo abbracciate abbiamo sottoscritto quel contratto dal quale adesso vorremmo liberarci perché in fondo noi abbiamo paura di lasciare andare e abbiamo paura di aprire gli occhi abbiamo paura di guardare dinanzi a noi perché questa prigione per quanto stretta per quanto brutta per quanto umiliante per quanto condanna è l'unico luogo che conosciamo veramente bene e dopo tanto tempo passato in una prigione volutamente o indipendentemente dalla nostra volontà ma come conseguenza di un nostro esserci fidati di qualcuno si è paura di uscire anche quando la porta viene aperta e si resta lì arriverà la serenità nel momento in cui lascerai andare tutte quelle lacrime perché ne è accumulate tante e per orgoglio e dignità e per carattere le lasciate dentro di te ma quelle lacrime spingono, premono, vogliono poter uscire perché solo così anche loro troveranno la loro forma di libertà liberando tutto quello che hai dentro risorse e anche limiti ma prendo quei limiti rendendoli varco ecco che anche tu aprirai un varco, una porta per venire fuori da te per poterti lasciare quella pelle che più non ti appartiene grazie ad una muta interiore ed esteriore come un animale che se la toglie e se la strappa di dosso per lasciare quella pelle lungo il cammino sarà una traccia per chi camminando la troverà per chi passeggiando la riconoscerà e sarà una traccia che segnerà un'età che non ti appartiene più perché oramai sei cresciuta oramai ti sei emancipata oramai ti sei liberato e vai verso altre forme strappalo il velo di quella crisalide che ti tiene lì ora che non sei più un bruco e non puoi più restare con i bruchi non condannarti con loro il tempo è stato quello in cui dovevi strisciare o dovevi abbassare la testa è arrivato il momento di liberarsi da tutto, di alleggerirsi, di aprire le ali e andare incontro al proprio destino ed è un destino di bellezza è un destino esteticamente meraviglioso vai verso i fiori e lascia la terra a chi quella terra deve calpestare perché quello è il suo livello anche te stai rallentando un pochino il cambiamento che auspichi tanto perché la tua anima già da un po' di tempo ha indicato la direzione il problema è che la paura di voltarsi totalmente non guardare più dietro le spalle ecco, la grande paura è quella di pensare che tutto quello che è stato anche il bello possa svanire potranno sembrare parole fatte potranno sembrare frasi inutili e consolazioni piuttosto misere ma tutto ciò che di buono hai vissuto così come tutte le paure oramai porti tutto ciò tatuato sul tuo corpo impresso nella tua memoria e le cose belle continueranno a vivere con te e a camminare con te a rivolvere con te perché sono diventate sangue, lacrime, carne, ossa sono la struttura che ti sostiene e sono anche il pensiero che ti permette di immaginare cose che oggi ancora non potresti neppure avvicinare tanto sono lontane ma sarà il tuo pensiero a gettare quell'amo che se non attirerà le cose farà sì che tu vada verso di esse perché ti trascineranno con la loro forza sei a un passo dalla libertà e sei a un passo da una vita migliore da una leggerezza che ti manca da tanto tempo da una serenità che ti è necessaria certo all'inizio forse ti dovrà imporre un comportamento che ancora non ti appartiene e questa è la fase più difficile quella di accettare a volte di indossare anche una maschera e di sorridere a se stessi e agli altri guardandosi allo specchio anche quando non c'è nulla da ridere ma questo è l'unico modo che hai per metterti al nudo con te e con gli altri piano piano vedrai che quel mettersi al nudo vorrà dire anche diventare finalmente una persona autentica concedersi di essere una persona autentica per attirare poi altre persone autentiche che a loro volta riconoscendoci avranno desiderio di avvicinarci il simile chiama il simile se vuoi liberarti andare verso una condizione migliore cerca di essere innanzitutto migliore tu per primo sicuramente questa cosa tu già la sai e già stai provando e che a volte è difficile quindi ci si ferma si rallenta e non è un problema perché nulla viene perso dei passi già compiuti arriverà questa gioia arriverà l'integrazione di tutti gli opposti del bello e del brutto del buono e del cattivo della notte e del giorno del maschile e del femminile nella nostra anima del principio e della fine quel viaggio lunghissimo che ti ha portato dalla vetta a toccare il fondo andare anche oltre adesso ti sta portando verso la risalita per concludere un ciclo che parte da te e a te torna con tutto il bagaglio delle esperienze compiute sei una persona nuova sei una persona diversa sei una persona pronta a donare amore anche a chi quell'amore non lo sa accettare ma sei anche una persona pronta a dire addio a chi quell'amore non lo ha saputo accettare e ti ha ricambiato con rigidità con freddezza e con fermezza lascia queste situazioni queste persone e queste condizioni che sembrano non poterti dare nulla se non una scusa per non andare avanti per non muoverti salutale sappi augurare loro il meglio ma riprendi il tuo cammino oppure se sei stanca oppure se hai ancora le forze e non senti di averle lascia semplicemente che tutto piano piano scorra mettiti a nudo mettiti a nudo soprattutto con te stessa e aspetta anche un segno perché sarà quello il momento sarà quello l'attimo in cui vorrai effettivamente iniziare ad andare bene fanciulli e fanciulle non so questo messaggio effettivamente a chi dovrà arrivare a chi deve arrivare io ve lo affido vi ringrazio e vi auguro la buona notte grazie a tutti grazie a tutti